Di piattaforme, di video sharing ne conosciamo tante, ci sono tante nuove start up in merito però una dedicata alla salute ci mancava ed è venuta a parlarcene Roberto Ascione di Publicis Healthware. Benvenuto Roberto Ascione, presidente dell'azienda, appena raccontato nella sala convegni questa piattaforma che si chiama come? Sì, ma videom.com ed è un social video network dedicato esclusivamente alla salute, fondamentalmente è una sorta di incrocio tra uno youtube e uno wikipedia dedicato alle tematiche della salute, il motivo per cui lo abbiamo immaginato circa un anno fa ed è online da febbraio in fase di test, non è stato lanciato ancora ma è funzionante, è accessibile e quant'altro il motivo dicevo per cui lo abbiamo immaginato sta nel fatto che il video digitale come tutti sappiamo su internet è enorme, ci sono 4 miliardi di video visti ogni giorno e il 32% di questi video ha a che fare con la salute. Sfortunatamente però quasi tutti i video di grande qualità in tema di salute sono in lingua inglese e molti video interessanti sono in lingue locali che chiaramente le altre persone non possono comprendere. Quindi quello che noi abbiamo immaginato di fare era una piattaforma che si occupasse di salute per garantire la qualità e che avesse una tecnologia di sottotitolazione dei video da e verso qualsiasi lingua, cosa che viene fornita da una startup americana che è specializzata in questo tipo di sistema. Questo ha consentito di creare questo social video network dove sostanzialmente un bel video di Harvard piuttosto che di un'università turca ha la possibilità di essere fruito da chiunque altro nel mondo e questo avviene per la prima volta. reso comprensibile. Quindi possiamo anche parlare che l'innovazione è stata nel processo di comprensione. Avete applicato praticamente un processo di comprensione in merito alla traduzione e alla soddisfazione praticamente dei video lettori o comunque sia degli utenti di internet di non rimanere emarginati e limitati dalla non conoscenza di una lingua estera. Ci sono diciamo molte innovazioni in una in video perché da un punto di vista tecnologico questa tecnologia di sottotitolazione largamente più efficiente delle tradizionali è un patent worldwide di questo nostro partner. Poi c'è tutta l'innovazione del design e del concept della piattaforma perché è la prima video network esclusivamente dedicato alla salute. In più ci sono tutta una serie di particolari specifiche che abbiamo inserito in questo sistema come ad esempio la possibilità di avere dei video fruibili solo dalla classe medica che sono molto importanti quando per esempio si mette su un intervento chirurgico che non è adatto al pubblico generale. In più c'è l'aspetto di collaborazione diciamo in modalità di crowdsourcing tipico di Wikipedia perché qualsiasi utente se l'autore del video lo rende possibile può entrare nel video e fornire la sottotitolazione non solo sfruttando la machine translation di Google ma la sottotitolazione cosiddetta umana quindi curata da un editor e questo chiaramente dà una qualità molto più alta di qualsiasi sistema automatico e questo avviene collaborativamente. Abbiamo già i primi video per esempio in lingua inglese rispetto ai quali i medici in Arabia Saudita li hanno tradotti in a boh e resi disponibili alla popolazione locale quindi siamo molto contenti di questi primi test diciamo. Avete idea orientativamente quando terminerà la vostra fase beta? No nel senso che Google è stato in beta per cinque anni quindi oggi si dice always beta quindi per ora è così. Abbiamo però i primi già clienti paganti come si suol dire quindi è una beta molto matura. Diciamo che stiamo imparando da come gli utenti stanno utilizzando la piattaforma e la stiamo via via migliorando per cui quando penseremo che una sorta di 1.0 sia chiusa dichiareremo che quella è la 1.0 ma è web sociale e collaborativo quindi stiamo ricevendo suggerimenti stesso dagli utenti per questo la definizione di beta ci aiuta a tenere il laboratorio aperto via via che lo rifiniamo. Allora grazie di essere venuto qui a raccontarci questa innovazione al premio Best Practice sopra una piattaforma di video sharing che appunto in questo diciamo strutturata così ci mancava nella nostra narrazione di questi due giorni. Grazie a voi.